Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. Secondo il risponso delle urne per quanto riguarda il referendum, il sì in Abruzzo ha ottenuto il 73,76%, si avrà dunque una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento che passeranno in tutto da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. In Abruzzo ha votato il 50,79% degli aventi diritto al voto per quanto riguarda il referendum, la percentuale invece del 66% per quanto riguarda le amministrative in quei comuni dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale e della carica di sindaco. La soglia minima di senatori dunque per ciascuna regione si abbassa da 7 a 3, nel senso che ogni regione che prima aveva un minimo di 7 senatori adesso avrà un minimo di 3 senatori. La riforma entrerebbe in vigore a partire dalle prossime elezioni politiche. In particolare in Abruzzo si passa da 14 a 9 deputati e da 7 a 4 senatori. Non si è registrato nessun disagio sul fronte del rispetto delle norme anti-covid ai seggi elettorali. Gli abruzzesi sono andati a votare muniti di mascherine. Pazienza e grande senso di responsabilità fanno sapere un po' da tutte le sezioni elettorali. Non ci sono stati assembramenti regolari. È stato il lavoro di presidenti di seggi e forze dell'ordine presenti in tutte le scuole. Oggi alle 9 iniziano invece gli scrutini per le elezioni comunali. Le sfide più attese sono quelle di Chieti ed Avezzano. In particolare nel capoluogo Tiatino si profila un ballottaggio tra i candidati di centro-destra e centro-sinistra. Vedremo però come andrà lo spoglio effettivo delle schede che secondo molti osservatori potrebbe riservare anche qualche sorpresa. In particolare si registra già la vittoria del sindaco di Elice che era anche unico candidato in corsa. Il quorum minimo per lo svolgimento delle elezioni ad Elice si è raggiunto e quindi il sindaco è stato riconfermato. Sono in tutto 4.209 casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a venerdì si registrano 72 nuovi casi di età compresa tra i 6 e gli 89 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 475 perché purtroppo in questi ultimi tre giorni c'è stato un decesso. Si tratta di un uomo di 67 anni della provincia di Teramo. Il dato è cumulativo di tre giorni ed è così suddiviso. 23 casi riferiti alla giornata di sabato, 36 a quella di domenica e 13 alla giornata di ieri. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 3.005 pazienti dimessi o guariti, 21 in più rispetto a venerdì di cui 19 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate alla Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.976 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test di seguito. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 729, 50 in più rispetto a venerdì. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti in tutto 186.082 test, 58 pazienti, 10 in più rispetto a venerdì, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5, numero invariato rispetto a venerdì, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 676, 50 in più rispetto a venerdì, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Angola e Sao Tomè e Principe, il Reverendissimo Monsignor Giovanni Gaspari, assegnandogli la sede titolare Vescovile di Alba Marittima. Con queste parole, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, ha appena comunicato ai consultori dell'Arcidiocesi di Pescara Penne la nomina di Monsignor Giovanni Gaspari, sacerdote dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. È un momento di gioia per la nostra diocesi, ha affermato e emozionato l'Arcidiocesi di Pescara Penne. Dopo le nomine di Monsignor Valentini e Monsignor Daddario, un altro figlio di questa terra pescarese viene scelto per servire la Chiesa, seppur in condizioni diverse. Il lavoro di Don Giovanni in terra di missione non è stato e non sarà affatto facile, spiega l'Arcivescovo, ma troverà sempre il sostegno del Vescovo, del Clero ed i fedeli della nostra diocesi, le nostre braccia aperte per sostenerlo e le mani giunte per accompagnarlo nella preghiera. Monsignor Giovanni Gaspari, nato a Pescara il 6 giugno 1963, è stato ordinato da Monsignor Antonio Iannucci il 4 luglio 1987, prima di frequentare l'Accademia Pontificia, ha lavorato in diocesi come segretario arcivescovile, come responsabile del centro vocazionale diocesano, come padre spirituale del seminario minore e come cancelliere arcivescovile. Monsignor Gaspari, aggiunge Monsignor Valentinetti, arriva a quest'incarico dopo un'esperienza importante in diversi paesi esteri, ha lavorato infatti come segretario di nunziatura in Albania e in Iran, come consigliere di nunziatura in Messico e nei paesi baltici, ed è rientrato da qualche anno a Roma nella segreteria di Stato come collaboratore del sostituto per gli affari pubblici, occupandosi particolarmente del rapporto con i paesi baltici. Si è riunita ieri all'Aquila la giunta regionale in seduta ordinaria. Questi alcuni dei provvedimenti adottati, previsti interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il passaggio del Giro d'Italia 2020, disposta all'assegnazione del contributo di 3 milioni di euro a beneficio degli enti locali che ne hanno fatto richiesta per sistemare la viabilità a lungo i tratti interessati dalle due tappe abruzzesi del Giro. Dato l'approssimarsi dell'evento sportivo, sarà possibile effettuare lavori per un importo massimo stabilito secondo la seguente ripartizione. Provincia di Chieti, chilometri 20, euro 472.440. Provincia di Pescara, compreso tratto urbano Canamanico Terme, chilometro 32, euro 755.910. Provincia di Teramo, chilometri 49, euro 1.157.478. Comune di San Salvo, chilometri 4, euro 94.488. Comune di Vasto, chilometri 6, euro 141.732. Comune di Francavilla al Mare, 5 chilometri e mezzo, 129.921, euro. Stessa somma al comune di Tortoreto, anche qui 5,5 chilometri e mezzo. Al comune di Colonnella i chilometri invece sono 5 e i fondi assegnati pari a 118.110, euro. La successiva erogazione avverrà una volta definita la copertura finanziaria. Invece è stato concesso un contributo di 20.000 euro al comune di Pescara per il sostegno alla manifestazione sportiva di carattere internazionale Race for the Cure virtuale europea 2020, prevista per il 27 settembre 2020. La manifestazione rientra in una campagna di solidarietà e raccolta fondi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Approvato poi l'atto di indirizzo per stabilire i criteri generali necessari per avviare la procedimento di concessione dei contributi per interventi di impiantistica sportiva ai comuni della Regione Abruzzo e sensi della legge regionale numero 2 del 2018 in materia di sport ed economia ed impiantistica sportiva. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022 è di 3.950 euro. Si è tenuta a venerdì, dopo la quarantena, il Consiglio nazionale Unaga, quello cioè dei giornalisti nazionali agroalimentari e ambientali della Federazione nazionale Stampa italiana. Tanti punti all'ordine del giorno in le materie trattate, dalle prolusioni dell'avvocato Carrese sulla diffamazione a mezzo stampa, all'intervento del presidente dei cronisti romani sui problemi giudiziari. Diversi gli interventi dei rappresentanti delle Regioni, improntati purtroppo alla perdita costante di posti di lavoro e al precariato sempre più diffuso. Intervento anche del presidente Zalambani, del segretario generale Girelli, della tesoriere Tassinato e della vicepresidente europea Lisa Bellocchi. Dal vicario nazionale Unaga e presidente per l'Abruzzo Donato Fioriti, la proposta, fatta propria da tutta la Giunta nazionale, di modificare i termini di rappresentanza dei gruppi di specializzazione in seno alle assostampa territoriali, usando come parametro di rappresentatività la percentuale e non l'indicazione numerica, almeno per le piccole regioni. La proposta è stata avanzata in consiglio da Fioriti direttamente al rappresentante FNSI Silvestre, che si è dimostrato attento e disponibile e ha chiesto che venisse formalizzata per meglio verificarla. La Giunta nazionale ha fatto propria anche la proposta bruzzese volta a richiedere al Parlamento europeo l'indicazione di una giornata europea del mito, che coinciderebbe con l'11 maggio, giorno mitologico della nascita di Chieti, fondata, secondo la leggenda, dal peli di Achille, in itinere i contatti con le altre città mitologiche per dar vita ad un vero e proprio comitato ad hoc. E siamo al meteo, oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinata e nelle ore centrali, coperto nel pomeriggio e nelle prime ore della sera, e cielo molto nuvoloso in serata con temperature da 22 a 25 gradi e venti deboli e nelle zone interne, cielo poco nuvoloso fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinata e nelle ore centrali, pioggia nel pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera, e nuvoloso in tarda serata con temperature da 19 a 24 gradi e venti da deboli a moderati, il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale, da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne, grazie, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.